Adrian si chiamava così l'uomo che rifugiatosi una notte delle settimane scorse in un cassonetto è morto schiacciato dalla pressa dei cartoni. Morire tra i rifiuti, accontentarsi di un cassonetto per dormire, vivere di monetine magari chieste all'uscita di un supermercato. Sono tante e sempre tristissime le storie dei tanti senza fissa dimora presenti nelle nostre città. E ancora una volta tornano alla mente le parole di Papa Francesco pronunciate al centro a stalli di Roma lo scorso settembre quando a tutti chiedeva di vivere un'autentica solidarietà da mettere in pratica fino a spalancare le porte dei conventi vuoti, degli istituti religiosi. E queste parole dal 1981 le sente forti nel cuore un uomo, un prete, Don Bruno Pozzetti fondatore della nostra casa che a San Benedetto di Lugana oltre ad accogliere disabili dal 2007 si occupa anche di accogliere quegli invisibili, quei senza fissa dimora che negli anni sono diventati numerosissimi. L'apertura è già da statuto dell'associazione del 1981 quindi se io dovessi ripensare a quei primi giorni un piccolo appartamento già c'era stata accoglienza e convivenza con me per una ventina di giorni di un ragazzo che era stato vittima della droga. Ecco abbiamo colto situazioni di ragazze madri a cui altri avevano consigliato altre scelte che non quella di essere mamma. La nostra casa sempre ha fatto ospitalità, decine di persone ecco direi. L'ospitalità fa parte di questa realtà ecco. In quest'ultimo anno sono state quattro, tre ragazze e una signora che aveva accompagnato la polizia ferroviaria per motivi diversi ma sempre con assenza di famiglie allo spaglio oppure immigrate, l'ultima che è tuttora presente dalla Romania. Ultimamente però si è creato dopo nella seconda metà del 2007, quel crollo proprio dell'economia per cui il numero aumentava a dismisura. Allora ho chiesto di poter organizzare una giornata per l'accoglienza il sabato mattino in modo da poter confidare su un gruppo di volontari, sono una trentina che si danno un turno di un paio di volte al mese forse anche di più, per organizzare le varie cose che sono poi la doccia, un 30-40 dolce con cambio intimo, distribuzione di genere alimentari o di abiti, poi il pranzo a mezzogiorno, ecco qua con noi insieme. Lei come reagisce a questi fatti concreti di persone che muoiono perché non hanno una casa? Sebbene ricordo delle persone che sono venute da qua ormai da molto tempo, almeno più di dieci sono morti su qualche banchina di Brescia o di Verona comunque in situazioni di abbandono. Infatti quando non vedo più uno mi chiedo e gli altri che vivono un'analoga situazione di vita sembrano sempre perfettamente informati. Mi chiedevi come reagisco di questo, a me basterebbe una cosa in questo momento, ecco perché intanto alle richieste di ospitalità ci si pensa sopra, faccio presto dire non ho posto, ma una cosa grande alle spalle. Vorrei solo una cosa, che nelle nostre omelie eccetera trovassero spazio, però voi siete in grado di sapere quanti ne parlano, io al di là della mia messa non è che ascolti altre persone della verità, quindi la mia messa so che trovano spazio sempre.